benedetto bonfatti per spinta sport siamo con lampitelli doppietta doppietta oggi quindicesimo sedicesimo gol se non vado errato media stratosferica parlavamo prima con torraco come avete preparato questa partita e quanta fame c'era dopo la sconfitta dell'andata per tra uno beh ovviamente dopo la sconfitta dell'andata abbiamo voluto rifarci quindi portare a casa questi tre punti c'è da dire che questo rientro agli allenamenti è stato molto più duro rispetto all'andata perché appunto voleva vincere ora siamo pronti ad affrontare anche il ritorno meglio di prima ecco viste tutte le squadre nel giorno d'andata qual è quella con cui ti senti hai un grido di vendetta dentro che che volete particolarmente portarla a casa come squadra o anche te beh vogliamo vogliamo riprovare a portare a casa quella con michelin esperia e soprattutto quella col cbs che c'è rimasta un po qui la sconfitta e poi le altre vada come vada perfetto e volevo chiederti appunto il mister di coccola vi sprona voi due esterni davanti e te torraco c'è sinergia tra nonostante giocate su due fasce opposte in mezzo con team of te oggi vi siete trovati molto bene molto c'è compatibilità perfetto adesso la classifica marcatori tu continua a scararla lassù c'è c'è gente che continua a segnare ma vuoi la scarpa d'oro e soprattutto hai paura del tuo compagno di squadra che possa venire a prenderti sì sì e a fine stagione chi vince offre qualcosa all'altro può essere un'idea va bene chiedo anche a te una dedica per questa doppietta beh a tutta la mia famiglia e quelli che credono in me e basta perfetto grazie mille grazie grazie a tutti